Il tempo puntuale non concede nessun indugiare contemplativo. Questa è una delle più belle frasi di questo libro. Per ritrovarti devi prima perderti, di Franco Michieli. Chi è Franco Michieli? È una persona che amo tantissimo, che ho anche avuto la fortuna di incontrare dal vivo tanti, tanti, tanti anni fa e con il quale ho fatto un piccolissimo corso di perdersi per poi ritrovarsi. Franco Michieli è un esploratore, è un camminatore, sciatore di luoghi selvaggi che affronta senza alcun tipo di mappa, GPS, orpello tecnologico. Lui va, affronta il selvaggio solo ed esclusivamente con se stesso e i propri mezzi. È un'attività che mi affascina tantissimo e che solo poche volte ho sperimentato nella mia vita. Ci vuole molto coraggio per andare in natura senza niente però quelle volte che l'ho sperimentato provo quello che dice lui. È un modo per entrare profondamente in contatto con la natura, per sentirsi parte della natura, per provare anche una sorta di spiritualità in cui ti affidi completamente a te stesso e a quello che succede. E di solito va bene, almeno a Franco Michieli a me è andato molto bene fino adesso. Ma torniamo al tempo puntuale. Franco Michieli in questo libro, soprattutto nella prima parte che è molto filosofica ed è bellissima, parla del nostro problema principale che è il vivere un tempo parcellizzato, puntuale, fatto non di presente ma di momenti frammentati. Il tempo parcellizzato, puntuale, frammentato non è naturale. Il tempo naturale è quello circolare che è quello che potremo ritrovare se riusciamo ad andare nella natura in un certo modo, che è quello che suggerisce Franco Michieli in questo libro. Come dico in tantissime mie video e recensioni, abbiamo bisogno di ritrovare il nostro contatto con la natura per capire che quella è la strada per cercare di salvarci e salvare insieme a noi tantissime altre specie vegetali e animali. La seconda parte del libro è molto pratica, parla di orientamento proprio nello specifico, col sole, con il vento, con le stelle, eccetera. Consiglio questo libro non solo a chi vuole effettivamente imparare ad orientarsi in maniera naturale nella natura, ma a tutte le persone che vogliono ascoltare, leggere, in questo caso, un altro approccio possibile alla nostra vita contemporanea, al nostro modo di stare al mondo.